Presidente, l'arte e la cultura possono creare sviluppo? Certamente, quella di oggi è una dimostrazione concreta. Quando in un territorio così ricco viene valorizzato il patrimonio storico, culturale e artistico, indica la via giusta non solo per la promozione del territorio di una comunità, ma anche per dare occasioni di crescita ai giovani, ai talenti, alle risorse umane di questo territorio.